Si è preso una macchina nuova, ovviamente anche un Mercedes sarà usato, però ovviamente un Mercedes non utilitario. Nuova usata poco importa, resta il fatto che l'inquilinio in questione non paga l'affitto da oltre due anni, nonostante un lavoro prima da dipendente e ora da imprenditore nel settore dell'edilizia. Dal 2020 alla fine del 2020 c'è stato lo sfratto esecutivo da parte del giudice che doveva poi essere esecutivo il 7 gennaio 2021, ma purtroppo con il discorso del covid è stato tutto quanto bloccato. Adesso siamo ancora in attesa, dopo esattamente due anni, che venga fatto il terzo accesso. Terzo accesso previsto per ottobre e che dovrebbe avvenire con l'intervento della Forza Pubblica, racconta la sua odissea da proprietario di un immobile in zona camposportivo a Treviso, l'architetto Francesco Dovesi, e lo fa per porre l'attenzione su un tema diffuso. Perché se da un lato si assiste all'aumento di sfratti, complice anche la fine della sospensione causa pandemia, dall'altro c'è il disagio di molti proprietari che non riescono a entrare in possesso dei loro beni. Nel caso dell'appartamento di Dovesi, il locatario di origini straniere dopo lo sfratto avrebbe anche chiesto e ottenuto il ricongiungimento con i familiari, compresi i figli minorenni. Il che, stando alla procedura civilistica, rende lo sfratto più difficoltoso. All'interno di questo sistema vengono privilegiate soprattutto le persone che vogliono fare i furbi, perché è chiaro che le persone che hanno avuto dei problemi, magari licenziati, che hanno delle problematiche, possono tranquillamente avere un aiuto sia da parte nostra, sia da parte del comune, ma non certo chi fa il furbo e che lavora tranquillamente e perché hanno deciso di non pagare ne approfittano e rimangono impuniti e guadagnano del denaro che non è loro. Dovesi si è rivolto a Comune, Questura, Prefettura. La questione, dice, è di ordine pubblico. Noi paghiamo costantemente le tasse e l'IMU che sappiamo perfettamente che sono elevatissime per le seconde case. Quindi, ribadisco, per me lo Stato italiano ci sta privando, è lui il primo responsabile di queste problematiche. Grazie. Grazie.